Guardando questo poster qua dietro, no questo sopra, ma questo di Spirit Cavallo Selvaggio, mi è venuta in mente la sua storia, no? La storia di questo cavallo, appunto Spirit, che voleva ottenere la sua libertà, che alla fine ottiene. Fa molto fatica per farlo, però alla fine ce la fa. Di qui ho fatto un'associazione, un'associazione rispetto a quello che succede a doppiaggio in carrozza, ma che alla fine succede nella vita di tutti i giorni. Chi di noi non vuole ottenere una libertà di esprimersi davanti a una o più persone? Chi di noi non vuole esprimersi liberamente come doppiatore e doppiatrice davanti a un microfono? Come attore e attrice davanti a una macchina da presa su un palco? Ecco, questo è un desiderio stupendo, che forse tutti dovremmo avere. Però talvolta, soprattutto all'inizio, c'è un'incapacità nel poterlo fare. Perché? Perché a volte manca quella che è la conoscenza, la conoscenza di alcune regole. Regole che si possono tradurre con competenze, con tecnica. Cosa facciamo allora? A volte cerchiamo, quando capiamo che sono importanti queste regole, cerchiamo di impararle. A volte però queste regole le rifiutiamo. Le rifiutiamo perché pensiamo che conoscere una regola significa mettere dei limiti alla nostra libertà. Ecco invece quello che dovremmo capire è che laddove desideriamo essere liberi, laddove vogliamo davvero ottenere la nostra libertà, alla base ci deve essere una conoscenza di determinate regole. Perché solo conoscendo determinate regole tu otterrai davvero la tua capacità di esprimerti liberamente e soprattutto riuscirai attraverso la tua capacità di esprimerti ad arrivare al tuo pubblico e soprattutto a canalizzare questo tuo, questa tua libertà. E dovremmo pensarci a questo. Le regole non sono un limite, ma sono anzi la nostra possibilità per esprimerci ancora più liberamente. Grazie. Grazie.